A Codeway Expo siamo con l'assessore allo sviluppo economico della Regione d'Azio, Paolo Ornelli. L'importanza di questo evento di cooperazione internazionale che tra l'altro finalmente si torna anche in presenza? Questa è una fiera bella, importante perché è l'occasione per rimettere al centro la cooperazione allo sviluppo che è una delle risposte possibili alla crisi planetaria che viviamo, che è un insieme di tante crisi che gettano un'ombra, un'incertezza grave sul futuro. Ai venti di guerra della brutale aggressione russa all'Ucraina, alle crisi democratiche che ci sono in diverse parti del mondo e anche all'aumento delle disuguaglianze che questa crisi ha prodotto, si può e si deve rispondere con un grande messaggio che è quello sintetizzato qui nello stand della Regione d'Azio, cooperare e creare un mondo di pace. Noi stiamo per portare in giunta il piano 2022 della cooperazione in cui investiremo un ulteriore milione di euro per proseguire progettualità importanti come quelle che hanno coinvolto anche Sapienza, penso alle borse di studio umanitarie per gli studenti afghani, penso al lavoro che stiamo facendo per gli studenti ucraini, penso anche alle nuove linee di attività sull'Africa per aiutare soprattutto sul tema dei vaccini contro il Covid e penso a un grande progetto che vogliamo fare con le scuole del nostro territorio coinvolgendo l'ONG di educazione alla cittadinanza globale. Noi crediamo che si possa ripartire da qui, dalla cultura della cooperazione allo sviluppo e della cittadinanza globale per provare a costruire un mondo nuovo, uscire dal Covid e dalla crisi che sta attraversando il pianeta non tornando al modello di sviluppo di prima ma costruendo le condizioni per un radicale nuovo modello di sviluppo più sostenibile, più inclusivo, più attento ai bisogni e alla dignità delle persone. Grazie Assessore.